Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 in apertura. Parliamo di quanto accaduto questa mattina a Pescara nell'ambito delle relazioni adriatiche, in particolare fra quelle della regione Abruzzo e della Repubblica Serba di Bosnia-Herzegovina. Un convegno dal titolo Le identità dei Balcani occidentali nella politica di coesione europea è stato organizzato per confrontare le relazioni istituzionali tra le due sponde dell'Adriatico. Vediamo insieme il servizio di Paolo Lorenzetti. Le identità dei Balcani nella politica di coesione europea. A Monticelli oggi c'è questo importante incontro qui in regione a Pescara per far sì che queste due sponde dell'Adriatico siano sempre più vicine. Questa mattina incontriamo il primo ministro della Repubblica Serbska che è un'entità che rientra all'interno della Bosnia-Herzegovina. Per le tante attività che questa regione sta facendo soprattutto nel mondo trasfrontaliero vorrei ricordare tutta la questione della macro-regione anche se questa Repubblica non è ancora in un momento di pre-adesione all'Unione Europea ma io credo e sono convinto che questi incontri servano soprattutto a sviluppare alcune tematiche importanti uno quella della cultura perché sono differenze che sostanzialmente noi vogliamo interagire con loro ma anche di tipo di imprenditoria. Io lì sera ho avuto l'incontro con il primo ministro e mi diceva che ci sono tante aziende che vanno a lavorare lì ma anche una corrispondenza reciproca anche sotto un punto di vista turistico. La politica di coesione europea non può prescindere da un'analisi, da un dialogo, da una conoscenza dei territori degli stati che oggi rappresentano l'area balcanica. Quattro stati in pre-adesione, quale autorità di gestione del programma I Padriatico Cross Border che mi onoro di gestire, otto stati di cui quattro stati in pre-adesione. Il percorso di pre-adesione è un percorso complesso di analisi finanziaria, socio-economica, di conseguimento della kiss comunitaire e quindi è necessario ascoltare i territori affinché gli obiettivi di convergenza possano essere realizzati. Un incontro è un dibattito scientifico, tecnico, di indirizzo politico ma ancor più di analisi. Quindi il programma I Padriatico rappresenterà gli obiettivi conseguiti, la presenza dei territori nei progetti del programma I Padriatico ma ancor più una tabella di marcia di ciò che si deve fare non solo nel 2014-2020 ma ancor più nella futura programmazione del 2021. Cambiamo argomento, ci spostiamo solo di qualche chilometro restando sempre a Pescara perché questa mattina davanti alla sede di Tua c'è stata una manifestazione di sciopero da parte del sindacato Orsa, 24 ore di astenzione dal lavoro con adesione quasi totalitaria dice il sindacato. La protesta riguarda sia le condizioni di lavoro che l'intendimento di Regione Abruzzo di affidare in house il servizio commerciale in concorrenza a Sangritana. Vediamo insieme il servizio. Vesusta e scarsa manutenzione dei veicoli, caos nell'organizzazione del lavoro e carenze igieniche nei depositi. Sono solo alcune delle ragioni alla base dello sciopero di 24 ore del personale Tua SPA proclamato per oggi dalla Segreteria regionale dell'Orsa a cui avverisce circa il 10% dei 1.500 dipendenti della Tua. Questa mattina c'è stato un presidio nel piazzale antistante e la direzione generale di Tua a Pescara allo sciopero ha aderito circa il 90% dei lavoratori. La proclamazione dello sciopero odierno è di Orsa Trasporti. C'è stata sì un'altra dichiarazione di un'altra sigla, non da tutte le altre sigle ma che in parte riprende anche le stesse problematiche per cui oggi Trasporti, Orsa, Sciopera ma che comprende anche delle tematiche attirenti la problematica che è venuta fuori negli ultimi giorni e che quindi noi non abbiamo potuto inserire nella nostra protesta perché è antecedente la dichiarazione di sciopero Orsa Trasporti rispetto a questa problematica e che è quella della cessione del ramo d'azienda decisa da politica e d'azienda per quanto riguarda la divisione servizi a mercato, quindi le linee commerciali attualmente in esercizio a Tua che vengono considerate come una zavorra, come un rimorchio, come un qualcosa di cui liberarsi. Io credo invece che queste linee possano essere gestite diversamente, ristrutturate perché no, incrementando la produttività sui turni, bene, siamo disposti come sigla a parlare anche di questo. Al presidio dei lavoratori dell'Orsa ha partecipato anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che è critico verso i vertici di Tua e verso la regione Abruzzo sulla gestione delle TPL in particolare di Tua. Questa è una società che fa acqua ormai da tutte le parti noi abbiamo fatto grandi visite ispettive dove è venuto fuori una situazione allarmante autobus che escono ancora fuori con spie rosse accese un'officina che rappresenterebbe un vero fiore all'occhiello come dico io perché è veramente una bella struttura, una grande struttura ma non ha personale a sufficienza non ci sono anche personali di segreteria che dovrebbe svolgere tante pratiche e poi quello che mi preme di più è che ci sono circa 170 persone tra gli amministrativi in esubero ecco questi amministrativi in esubero alzassero il loro sedere dalla sedia e andassero all'interno degli autobus a fare la lotta all'evasione e continuiamo con la pagina sindacale ma ci spostiamo a Teramo protesta eclatante dei lavoratori della Atria contro i 55 esuberi previsti dalla proprietà dell'azienda i dipendenti in sciopero da una settimana hanno deciso di bloccare il passaggio di 5 tir l'intervento della polizia ieri pomeriggio ha riportato poi la situazione alla normalità vediamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli disperazione e rabbia per gli imminenti licenziamenti che hanno portato i dipendenti dell'Atrea azienda di sanitari ceramici di Teramo ad una protesta eclatante bloccare con i loro corpi 5 tir che avrebbero dovuto caricare i prodotti finiti si è vissuta una grande tensione davanti allo stabilimento del nucleo industriale di Sant'Atto e la situazione si è risolta solo con l'arrivo della polizia la fabbrica è in sciopero da una settimana per dire no ai 55 licenziamenti su 185 lavoratori decisi dalla proprietà ci sono stati momenti di tensione perché l'azienda ha detto che dovevano passare dei camion in una situazione dove teoricamente non c'era nulla da consegnare perché c'era lo sciopero dei lavoratori della logistica ragion per cui è nata una discussione dove noi abbiamo chiesto all'azienda spiegazioni se le persone che erano entrate erano per la messa in sicurezza degli impianti oppure avevano fatto altre operazioni siccome non si può sostituire i lavoratori sciopero questa sarebbe una grave scorrettezza e anche un comportamento antisindacale chiaramente i lavoratori hanno reagito e hanno manifestato davanti ai cancelli come ovvio è intervenuta la questura di Teramo è nata una discussione per il momento questa tensione è rientrata noi riteniamo che una riorganizzazione che prevede una soppressione di un numero così alto di posti secondo noi metta a rischio l'equilibrio e la sussistenza dell'intero sito produttivo è un'operazione troppo grande per essere gestita con gli strumenti alternativi e quindi tutto questo ci impone di rispondere con gli unici strumenti che abbiamo durante il presidio davanti ai cancelli dell'Atria è arrivato anche il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino che sta seguendo istituzionalmente la vertenza dei lavoratori da diverse settimane Di Sabatino ha dichiarato che dai 55 super iniziali previsti dai vertici dell'azienda si è già scesi a 35 un passo in avanti ma la protesta continua cambiamo argomento ora ci spostiamo a Tona per parlare del dragaggio del porto commerciale la vigilia del prossimo comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale convocato per il 5 di ottobre Forza Italia torna a sollecitare l'amministrazione comunale ortonese di intervenire per tutelare le operazioni di dragaggio dello scalo portuale Forza Italia continua a nutrire dubbi e perplessità circa le procedure messe in atto fino ad oggi da regione Abruzzo per arrivare al dragaggio andiamo ad ascoltare adesso l'intervista al presidente della commissione di vigilanza della regione Abruzzo Mauro Febbo è una storia iniziata oramai diversi anni fa diversi anni fa segnalammo che i 9 milioni che con tanta fatica eravamo riusciti a portare qui a Ortona per il dragaggio si rischiava di perdere perché qualcuno ha insistito nel fare una gara senza aspettare le prescrizioni del via e quello che avevamo anticipato purtroppo sta accadendo ma si susseguono in continuazione delle novità oltre che chiaramente dei rinvii amministrativi e giudiziari mi è arrivata la convocazione del comitato via per il 5 ottobre abbiamo scoperto che su Ortona esiste un nuovo progetto che riguarda lo smaltimento dei rifiuti B1 e B2 oltre chiaramente quelli classici A1 e A2 che peraltro vanno a cozzare rispetto a due progetti che già esistono su questo porto e su questo abbiamo delle grosse perplessità abbiamo delle grosse perplessità perché di fronte a un progetto del deposito GPL che è fermo al Ministero e che denunciamo da subito e soprattutto su cui dare la nostra contrarietà c'è purtroppo una delibera dello scorso anno, del 2016 dove si deve realizzare, vorrebbero realizzare la banchina di colmata per metterci i fanghi a suo tempo fu assegnata ad un altro soggetto giuridico che poi fa capo sempre a quella società comunque è un altro soggetto è un noto imprenditore io credo che questo crei ulteriori problemi crei ulteriori possibilità di allungare i tempi se non addirittura di perdere i soldi per questo dragaggio poi ci viene sempre il sospetto che magari qualcuno stia lavorando alla fine per far sì che Ortona diventi solo un deposito GPL Torniamo a Pescara dove in queste ore si sta diffondendo una problematica relativa alla potabilità dell'acqua che sgorga da alcune fontanelle pubbliche della città il Comune sta lavorando con ACA ed ARTA per capire e risolvere il problema che attualmente interessa sei punti di captazione intanto il forum dell'acqua chiede di allargare le analisi ai rubinetti anche delle case e degli esercizi commerciali vediamo il servizio si sta allargando sempre di più la problematica legata alle non conformità di potabilità riscontrate nelle fontanelle pubbliche di Pescara nel 2016 sulle fontanelle del capoluogo adriatico sono stati effettuati un centinaio di controlli con solo una non conformità in questo mese di settembre invece sono stati rilevati sette sforamenti dei parametri scrive in un comunicato il forum dell'acqua l'associazione ambientalista ha chiesto alla ASL un controllo ARTA allargato anche le utenze domestiche e commerciali il timore è che la non potabilità dell'acqua possa raggiungere le case al momento le fontanelle interessate da provvedimenti di chiusura sono sei in via Scarfoglio in via del Santuario in piazza Grue all'Aurum alla caserma Cocco e al parco Falcone l'amministrazione comunale dal canto suo ed in particolare con l'assessore Di Carlo sta monitorando costantemente la situazione e dice il vice sindaco Antonio Blasioli per il momento non ci sono rischi per i rubinetti di abitazioni ed esercizi commerciali abbiamo interdetto l'utilizzo di queste fontane alla cittadinanza e l'abbiamo fatto a titolo precauzionale chi sta seguendo questo lavoro è l'assessore Di Carlo che è l'assessore all'ambiente che si occupa appunto di questa delega ci sta lavorando quotidianamente da ieri è un lavoro costante anche in aiuto a quello che ci comunica la ASL e l'ARTA voi dovete sapere che il comune nel momento in cui riceve delle analisi che vengono svolte dalla ASL e dall'ARTA deve assolutamente ottemperare l'ACA nello stesso tempo sta prelevando l'acqua insieme alla ASL in tutte le fontanelle di Pescara quindi non soltanto in queste sei che sono state interdette quindi a breve potremmo avere dei dati che riguardano tutte le fontanelle nel frattempo appunto a titolo precauzionale e per la salvaguardia della salute dei cittadini di Pescara queste fontanelle sono state interdette all'utilizzo allo stato attuale da quello che potete dire che sapete ci sono problemi anche per l'acqua che arriva nelle case? allo stato attuale l'ACA ci dice che non ci sono questi problemi per quanto riguarda le utenze diciamo domestiche però il controllo è costante questo è un tema molto molto delicato e abbiamo chiesto appunto all'ACA anche di fare dei prilievi all'interno delle abitazioni voltiamo decisamente pagina adesso torniamo a Teramo perché c'è la notizia che il Vescovo Seccia lascerà la diocesi di Teramo Atri e lo farà il 2 di dicembre il Monsignore è stato nominato Vescovo Cosmopolita di Lecce questa mattina il prelato ha radunato il presbiterio di Lecesano le associazioni e i movimenti laicali e i giornalisti per annunciare questa notizia che gli è stata comunicata lunedì scorso sentiamo il servizio cosa porta via nel suo cuore da Teramo? Teramo lo spirito degli abruzzesi quello che ho imparato qui quello che ho sofferto insieme con voi ma anche questa grande speranza è la capacità di andare avanti perché bisogna andare avanti non bisogna fermarsi e la speranza cammina con le gambe degli uomini questo vale per me vale per voi vale per i politici vale per gli amministratori vale per tutti quali sono stati i momenti più difficili? i momenti più difficili sono stati i momenti del 2009 del terremoto e poi questi ultimi mesi come voi potete bene immaginare per cui veramente è una ferita che mi porto dentro e basta è una soddisfazione? no, non guardo guardate, credetemi non guardo i titoli alle nomine è una grande responsabilità perché ritorno nella mia terra ma da casa mia a Lecce forse ci sono più chilometri che da casa mia a Teramo quindi non è questione di adesso ci spostiamo all'Aquila i RIS di Roma sono saliti in cattedra questa mattina per illustrare le più moderne tecniche di investigazione nel curriculum del reparto scientifico dei carabinieri tanti casi di cronaca dei giorni nostri vediamo insieme il servizio le più moderne tecniche di investigazione spiegate dal comandante dei RIS di Roma il tenente colonnello Sergio Schiavone che ha partecipato a SAR per la notte europea dei ricercatori che si svolge anche all'Aquila quello che le ostrerò oggi è anche un concetto i laboratori più avanzati di scienze forensi lavorano su tracce quindi è fondamentale anche una opportuna attività di sopralluogo e repertamento anche in questa sede e anche sulla scena del crimine ci sono nuove tecnologie che aiutano tantissimo i nostri operatori a ricercare queste tracce minime tecniche moderne e ultrasofisticate che permettono di riaprire casi di cronaca anche dopo molti anni come testimoniano alcuni recenti fatti ci sono casi che sono stati aperti riaperti anche dopo molti anni quanto aiuta in questo senso l'utilizzo dei vostri strumenti anche scientifici? tantissimo utilizzando il lumino per esempio è possibile rinvenire tracce di sostanze ematiche anche a distanza di anni purché non ci sia stata una degradazione batterica mi viene in mente come esempio di questi casi che ha citato il caso della contesta Alberico Filo della Torre uno dei casi di cosiddetti cold case riaperti dalla magistratura e risolti efficacemente grazie a un accertamento del RIS di Roma i RIS di Roma operano in tutta Italia tantissimi casi seguiti ogni anno tra questi almeno 100 omicidi circa 5500 casi nel nostro territorio di competenza che è molto vasto che va dalla Toscana a nord alla Basilicata a sud molti di questi casi sono legati a fattiriato molto gravi abbiamo circa un centinaio di omicidi l'anno e ovviamente sono i casi che devono avere massima priorità il comune di Pianella ha lavorato davvero tanto per mettere a punto gli interventi di messa in sicurezza dei plessi scolastici il consultivo è stato tracciato dal sindaco Sandro Marinelli nel corso di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio con il personale scolastico ma soprattutto con i genitori degli alunni vediamo insieme il servizio di Vestina News Sindaco Marinelli oggi qui a Pianella parlerete di tutte le vostre iniziative che avete portato a termine per rendere le vostre scuole più sicure abbiamo lavorato tanto per migliorare il più possibile il livello di sicurezza dal punto di vista sismico e non solo e oggi abbiamo ritenuto opportuno di confrontarci col personale scolastico e con la componente dei genitori per fare il punto della situazione non ci siamo fermati un attimo e nella ricerca dei finanziamenti che ad oggi tra le varie linee finanziarie che siamo riusciti ad intercettare abbiamo una cifra che si avvicina ai 5 milioni di euro siamo riusciti ad esempio sulla scuola dell'infanzia di Pianella Centro Urbano dove partivamo da un dato di vulnerabilità sismica davvero molto basso 0,17 ad ottenere un livello 1 quindi adeguamento sismico e questo è il risultato davvero di grandissima soddisfazione un lavoro di 1 milione 800 mila euro una riconsegna parziale i lavori stanno andando avanti per il secondo lotto sulla scuola media stiamo ancora lavorando che oltre alla messa in sicurezza sismica prevederà anche un lavoro di efficientamento energetico e termico all'avanguardia e lavoriamo anche sulla scuola elementare anche qui in due fasi distinte abbiamo lavorato un po' a 360 gradi per intervenire ovviamente in maniera più consistente laddove i finanziamenti ce l'hanno concesso e dove c'era più necessità di intervenire perché gli edifici necessitavano appunto di un intervento radicale nel teatro stabile d'Abruzzo due nuove nomine una indicata dal comune dell'Aquila e l'altra dalla regione fondamentale ora scegliere chi prenderà il posto dell'ex direttore Alessandro Dalatri cambiano le facce e i ruoli al teatro stabile d'Abruzzo la giornalista Rita Centofanti sarà vicepresidente l'avvocato aquilano Roberta Spaziani consigliere due nomine assegnate durante l'assemblea del TSA a Palazzo Silone dove era presente anche il sindaco Pierluigi Biondi Rita Centofanti è stata indicata dal comune dell'Aquila infatti mentre l'avvocato Spaziani dalla regione Abruzzo prendono il posto dei dimissionari Adolfo Paravano e Pier Giorgio Ruggeri che avevano presentato le dimissioni un mese fa il terzo consigliere in carica nel CDA è Remo Di Martino il nuovo CDA sarà a tempo fino al 5 dicembre allora si procederà con il rinnovo degli organi un incarico onorifico non retribuito e lo stesso vale per la presidente del CDA Nathalie Dompe erede della famiglia proprietaria dell'omonima industria farmaceutica che all'Aquila ha un importante stabilimento prossimo passaggio sarà ovviamente quello della nomina del nuovo direttore artistico un posto è bene ricordarlo vacante da luglio dopo le dimissioni di Alessandro Dalatri che aveva avuto dei diverbi con Antonio Massena ex teatro luovo e direttore della manifestazione Cantieri dell'Immaginario un'altra incognita grande è quella dei lavori di ricostruzione del teatro comunale che come è noto hanno subito dei rallentamenti a causa dell'inchiesta che ha coinvolto la sovrintendenza stazione appaltante dei lavori i lavori nella parte strutturale dovrebbero essere terminati nel prossimo dicembre ma poi si dovranno affidare anche i lavori per la dotazione tecnologica e gli arredi e dunque passerà altro tempo fondamentale è ovvio anche per il futuro dello stabile abruzzese la ricostruzione del suo teatro si svolgerà il 14 ottobre al teatro comunale di Teramo la cerimonia di assegnazione degli esposimetri d'oro ai più grandi fotografi del cinema italiano e internazionale parliamo ovviamente del premio di Venanzo organizzato da Teramo Nostra giunto alla ventiduesima edizione che propone un mese di appuntamenti culturali nella città di Teramo vediamo assegnati gli esposimetri d'oro della ventiduesima edizione del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni di Venanzo rassegna culturale curata da Teramo Nostra che si svolgerà a Teramo per l'intero mese di ottobre saranno premiati Ferran Parades Rubio per il film Gli Invisibili Mauro Fiore per i Magnifici 7 e Pasquale Rachini per una sconfinata giovinezza incontri mostre proiezioni tutte nel nome di Gianni di Venanzo Teramano maestro della fotografia cinematografica considerato il Caravaggio della Luce che novità quest'anno per il premio di Venanzo abbiamo sempre maggiore attenzione al nostro territorio non è seconda a nessuno perché se Gianni di Venanzo ha fatto scuola in tutto il mondo per la luce è il Caravaggio della luce stato noi grazie a Gianni di Venanzo riusciamo a far passare il messaggio in tutto il mondo della nostra città il programma il programma si comincia il 30 settembre nella nostra sede con la proiezione su un film su Giovanni Gentile un personaggio discusso però appunto per questo si apre una discussione su questa riforma lui che ha fatto la riforma della scuola italiana e anche del suo pensiero dopo ci saranno tante altre iniziative il 4 inaugureremo la mostra ricorderemo il grande Luigi Zamba a cura di Orio Caldirone e L'Angia per arrivare poi alla sera del Galà del Galà che è il 14 quest'anno abbiamo come madrina Stefania Rocca abbiamo la nostra grande attrice Grazia Scucci Marra avremo tanti tanti ospiti cosa potremo ammirare di Luigi Zamba intanto i film che saranno proiettanti e poi foto di scena dei film di Luigi Zamba la mostra è curata da Orio Caldirone che è stato il direttore del centro sperimentale si terrà all'arca e all'arca ci sarà anche una mostra di pittura del pittore terramano Glauco Barlecchini oltre ai tanti appuntamenti tutti a ingresso gratuito organizzati nell'ambito del premio di Venanzo non mancherà il premio caporale giunto all'ottava edizione e gestito in sinergia con l'istituto zooprofilattico che propone un concorso video sul rapporto tra uomo e animali la cerimonia di premiazione con red carpet si terrà a terra il 14 ottobre al teatro comunale e adesso e adesso apriamo la pagina dello sport iniziando a parlare del Pescara ma non del calcio giocato bensì del nuovo stadio del progetto che è in divenire in un partecipato convegno che si è svolto nella Camera di Commercio del Capologo Adriatico si è parlato appunto del progetto di realizzazione del nuovo impianto sportivo a Pescara lo stadio cambierà anche l'aspetto urbanistico di una porzione della zona sud della città oltre allo stadio da 21.000 posti previsti anche ristoranti parcheggi altre attività commerciali per rendere attrattivo il polo sportivo le parole del presidente del Pescara Sebastiani e dell'amministratore di Proger Sgambati vediamo solo volessimo guardare quello che ha portato lo stadio alla Juventus dovremmo capire quello che può portare lo stadio nuovo a una società piccola come quella del Pescara che avrebbe la possibilità di crescere notevolmente perché noi non serve penso che facciamo che ripercorriamo la storia del Pescara in questi anni però abbiamo avuto la possibilità in un paio di occasioni di andare nel salotto buono del calcio però poi bisogna rimanerci per rimanerci oggi è una questione solo ed esclusivamente economica è evidente che il contesto stadio non sarà un contesto a sé stante ma essenzialmente da un discorso molto più ampio perché noi abbiamo avuto modo e la fortuna di vedere insieme all'amministrazione però essendo un progetto che riguarda la città è giusto era giusto ci sembra giusto parlarne prima con quelli che sono gli attori della città con quelli che sono i portatori di interesse della città è un impianto ovviamente studiato secondo i moderni concept i moderni stilemi è un impianto da 21.500 spettatori circa ripeto studiato e disegnato come sono pensati disegnati progettati i sistemi moderni un contenitore importante di funzioni che non sono solo il calcio la partita di calcio così come un polo di importanza anche economica forte importante come il moderno stadio deve prevedere per quanto riguarda i costi ma uno stadio del genere più o meno costa tra i 40 e i 50 milioni questo è l'intervento base poi dipende da tutto quello che attorno allo stadio a partire da alterare le infrastrutture sarà necessario realizzare adesso invece ci occupiamo del calcio giocato perché si avvicina il match di domani pomeriggio fra Carpi e Pescara si allunga la lista degli indisponibili per il Delfino che domani come detto sarà in campo per la seconda trasferta consecutiva fuori causa i terzini Zampano e Crescensi per problemi di natura fisica sul settore destro della difesa toccherà a Balzano che farà così il suo debutto stagionale solito dubbio in mediana dove sono certi Cudibali e Brugman terza maglia contesa da Valzania Canute e Carraro nel primo caso Brugman giocherebbe in regia altrimenti mezzala davanti non dovrebbero esserci novità con del sole Capone ai fianchi di Pettinari Zemano oggi ha parlato del Carpi ha tirato una stilettata a qualche suo giocatore ascoltiamolo per me è una buona squadra tipica della serie B lavorano tutti fisicamente sono tutti su 1,85 quindi diciamo fisico e quindi è una buona squadra se non sbagliavano la partita con Foggia erano oggi in testa vabbè allora sono una squadra chiusa che poi riescono a aggredire l'avversario e ripartire poi è la caratteristica loro è difficile che giocano a lungo infatti è la squadra che fa meno possesso di palla del campionato certo che tutti questi infortuni è una sfiga pazzesca sei anni fa mi ricordo che si infortunava nessuno è strano certamente ma quasi chi ha infortuni o perché c'è compleanno è un'altra mentalità che oggi nel calcio moderno appena uno sente qualche cosina si ferma ci vogliono le cure ci vogliono radiologie queste cose è un altro tempo ma penso che in tutto calcio insomma i primi 30 minuti di Cremona non li vuole più vedere questo è poco masi tutto si quelle erano brutte brutte come sta vivendo questo periodo opaco perché sono state anche in aggazio io ci parlo spesso forse più più con lui che con tutti gli altri arriverà il suo tempo lui lo sa e si sta preparando per quello lui con il suo fisico sicuramente ha sofferto la preparazione in partenza e poi i gol di Pettinaria ci hanno chiuso un po' nella tarda mattinata ha parlato anche il tecnico del Carpi Antonio Calabro ascoltiamo come presenta il match del Cabassi di domani loro sono bravi ad attaccare in svariate situazioni quindi bisogna stare attenti in tutte le situazioni positive che loro andranno a mettere in campo attaccano con le catene attaccano direttamente sono bravi nelle ripartenze difendono aggressivi e ripartono aggressivi quindi sappiamo quali sono i loro limiti la loro forza e sappiamo noi quali sono i nostri limiti della nostra forza e quindi cercheremo di limitare al massimo il loro potenziale e tirar fuori il massimo del nostro io non penso che Zeman possa avere dei programmi iniziali per poi eseguire lui guarda molto l'allenamento guarda molto quello che un giocatore dà in campo e cerca di mettere il giocatore migliore per le caratteristiche di gioco che lui richiede è normale che un giocatore di esperienza dietro ti dà una grossa mano però perde magari in intensità fisica in altre situazioni e la squadra è una squadra come hai detto te prima con questi nomi con questa gamba con questa organizzazione come è composta è una squadra che deve vincere il campionato è una squadra che ha tutto allenatore squadra ambiente ha tutto per poter vincere il campionato noi sappiamo che stiamo affrontando una squadra che anche se in questo momento non ha tantissimi punti ma è una squadra che ne farà tanti giocatori che comunque sono stati maggiormente impiegati rispetto a altri come sono tutti i sabbioni che magari sono a prima non scuola come hai sentito come hai visto in settimana e se conti di averlo al 100% domani hanno fatto una settimana tutti quanti al 100% si sono espressi in una maniera soddisfacente sicuramente delle valutazioni vanno fatte sempre a 360 gradi e domani mattina l'ultima riunione che farò con lo staff sarà proprio sotto questo punto di vista per avere un giocatore al 100% come dici te vanno valutate un po' tutte le cose lo stato fisico mentale minutaggio perché è un campionato lungo e il sabbione può interpretare talmente tanti ruoli che può essere considerato spesso sia dall'inizio che anche partita in corso scendiamo di categoria andiamo in Serie C per parlare ovviamente del Teramo oggi penultima seduta di allenamento per preparare il match di domenica al Bonolis alle 14.30 contro la fermana dell'ex Marco Sansovini non sono escluse novità nell'undici titolare tra i giocatori che potrebbero perdere il posto via Antonio Bacio Terracino cui potrebbe essere favorito su Mare ascoltiamo l'esterno napoletano ma diciamo che questa è stata un po' la mia pecca all'inizio che comunque sappiamo che non era il top della forma però credo che adesso la forma c'è l'ho recuperata quindi non credo che sia questo il problema magari domenica comunque è stata una partita difficile dove abbiamo fatto un po' tutti fatica ma questo non sta a me decidere al mister se bisogna cambiare qualcosa io credo che comunque quello che abbiamo fatto finora si è visto comunque abbiamo fatto delle ottime prestazioni mettendo che questa qui di domenica magari ci è andata male che comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra abbiamo fatto degli errori ed è giusto analizzarli e capire dove dobbiamo migliorare sì loro stanno attraversando un buon momento però noi comunque dobbiamo dare una dimostrazione comunque ci siamo anche noi prescindere dalla prestazione di domenica è un modo per rifarci giochiamo in casa e quindi dobbiamo dare un segnale tutti uniti dobbiamo giocarci questa partita come abbiamo fatto finora ma le difficoltà ci sono in tutte le partite non ti so dire quanto può essere la difficoltà quanto può essere anche se dipende da noi comunque affrontare la partita nel migliore dei modi partendo subito a mille come abbiamo sempre fatto e cercare di mettere in difficoltà loro vedere su Mare che magari sta bene che entra e fa bene può essere per te magari un stimolo no perché comunque chi fa bene è giusto che giochi è ovvio che siamo un gruppo ci vuole la competizione cioè fa sempre bene quindi se lui sta bene dimostra di giocare è giusto che giochi su Mare come chiunque altro è tutto anche per la seconda edizione del TG6 prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video